Ciao, sono con Kenji e oggi continuiamo l'Extended Edition di Anna. Quindi, eravamo qui e non sapevamo cosa fare. Però, il biglietto che diceva. Non so se non so con la purezza, non so se si taglia col ferro, ok, quindi il pugnale. Ne aveva conosciuto il rito, solo quando vede il suo sangue per ferire l'acqua limpida capì che si stava avvicinando alla verità. Quindi, questa è l'acqua. Ok, adesso dovevamo mettere qualcosa sotto l'acqua. Ok, 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 quindi, ci attacchiamo, la luce, perfetto. Ok, proviamo ad accenderla. Allora, la luce non è coperta, ma rimane comunque troppo dentro. Ancora. Ancora. C'è ancora il deposito qua che non so aprirlo. Non c'è un pezzo di legno che posso prendere. Sotto un pezzo di legno. Sotto un pezzo di legno. Sotto un pezzo di legno che vediamo la sensazione di fumo per accedere. pure non riesco a far leva su lucchetto non c'è niente tavolo spaccato qua non c'è niente ci fosse un pezzo che posso toglierti non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente devo aumentare la piaffa ma potremmo aburciarci mi piace vedere allora così ok questo Se io taglio ste foglie e poi le metto dentro, hai tirato la carchicella, ora ho cinque foglie, però non ho potuto usarle qua, no, nessuna? No. Da qualche parte, abbiamo la valere di là. Ci deve essere qualcosa, base per coltello pesante. Da nazione, da nazione. Probabilmente ho fatto qualcosa qui. Devo semblar, enojoso. Non lo so. Ok, dimmi chi con qualcosa. Ah, polvere gentata. Oh, bastava leggere. Bene. Povera gentata. Forse, forse. Potrebbero anche dimmelo prima. Oh! 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 Sì, speravate che io leggessi quella cosa lì. Ok. Quindi adesso possiamo tagliarci il braccio. Vediamo un po'. Ok. Ok. Proviamo a... Uh, la mente c'è... Non credo che... Perché? Devo tagliarmi il braccio da qualche parte? Tagliarmi? Non lo so. Devo fare il contrario. Eh? Devo fare il contrario. Eh? Perché? Mi sa già di aver risolto. Un'acqua limpida, il sangue. Perché no? No. Perché no? Guarda, visto che ci siamo, li apriamo tutti. No, guarda. No, guarda. Non, guarda. First off. Guarda, c'è quella di essere? No, guarda. Guarda, guarda. Hispia bene. Scusate, sono in una casa da stregate, mi metto a leggere. Posso adesso? Ora è tutto. Ora è tutto. Quindi... Che se fa? Oh! Mi sento strano, ma che mi succede? Tutto sfuma e continua a cambiare. Non avendo fatto praticamente nulla, diventa tutto rosso. Ok. Quindi adesso forse potrò fare il rito. Ah, lui è indicato, va bene. Va bene. Quindi. Accendiamo. E poi ci tagliamo. Eh no, non posso, non posso, non posso. Basta provarci. Quello lì lo indica. Vediamo un po'. Niente, non possiamo aprirlo. Ci sono dei cerchi. Allora ci sono delle radici. Allora ci sono delle radici. Eh no, eppure devo far quella. Devo far quello. Indica l'orecchio. Ti fa male l'orecchio? Non lo so, devo... Impossibile sta cosa. Ti bruci. Ok. Qui puoi andare il tuo sangue. Dentro. Oh. Allora ti dovrebbe bastare. Chi... Chi sei? Non mi fa più male. Come hai fatto? Aspetta. Dove scappi? Dimi almeno il tuo nome. Oh. Sì. Ignore. Sette cose prima non c'erano. Disegno una nicchia scavata nel muro. C'è un disegno all'interno. Quello lo vedevo anch'io. Oh. Premoto. Premoto. Basta. Perché non mangi? Non ho fame. Sei strano. Ti è successo qualcosa? Semplicemente non ho fame. Non c'erano. Ok. Questo? Ok. Stessa cosa. Va bene. No. Qua c'è una scritta. Allora. La morte era nera. L'odio bronzeo. La felicità dorata. La solitudine argentea. La sola menzogna era bianca. Allora. Qui siano le foglie. Che sono tutte colorate strane. Allora. La morte è nera. Qui. La morte qual'è? Allora questo qua. C'è. Ok. Poi. Visto che sto andando bene l'inglese mi viene una traduzione. L'odio bronzeo. L'odio. L'odio. Probabilmente l'odio è questo. Se. 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 Bronze. Ok. Ok. La felicità dorata. La solitudine argentea. La mezzogna è una bianca. Ovviamente questi qua si sono felici. Dorata. Prendiamo. Ci sono altri. Verò. Potrò andare dall'altra parte. Ah, me ne mancano altri due. Oh! Stai di dietro tu. Ah, ma sono anche di qua. Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Andava sì, però andava. Non so se poi li metto sbagliati, ma solo il Toyer. La solitudine. La solitudine. La solitudine. La solitudine. Qua? Cosa no? Oh, proviamo a mettere... Questa come solitudine. Dovevo aver sbagliato qualcosa. Allora. La morte è quella. E va bene. Che se è questa la solitudine? Allora, aspettate. Vorremmo metterti dalla gentata. La felicità è questa qua. Sicuro. Il bronzo cos'era già? L'olio. 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 Quindi questo dovrebbe essere l'olio. Vabbè che c'è? Il bronzo matto. L'olio. Un tempo. L'olio. Ho! Cos'è? Basta con questi scherzi Allora La morte era nera L'odio bronze Perché salto sempre la seconda parte La felicità dorata La solitudine argentea La sola menzogna era bianca Peso felici Ese è giusto così Probabilmente questo qua Non è vero Che questa non sia la morte La morte era la solitudine 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 bianca foro foro bronzo qua ci sta bene dov'è che mancava? lascia questa casa, vai via da me e vai porta per il magazzino è aperto quindi siamo riusciti ad arrivare al magazzino finalmente quindi al prossimo episodio iscrivetevi, commentate e ciao ciao